La vittoria nel derby dei colori rosso-blu ottenuta dalla Gelbison nei confronti del Potenza ha rilanciato in chiave play-off le ambizioni del club cilentano e creato l'entusiasmo tra i tifosi. La convincente prestazione al cospetto di una candidata al salto in Lega Pro assume un aspetto ancora più significativo se si guarda con attenzione al numero dei protagonisti che l'hanno resa possibile. Tra campo e panchina a vestire la casacca vallese erano ben 10 e tutti appartenenti all'area del comprensorio cilentano. Da quando la società è tornata a frequentare il massimo torneo nazionale dei dilettanti, infatti la ricerca di calciatori cresciuti nella società del territorio è stata una prerogativa che ha accompagnato i tre presidenti che si sono susseguiti. Puglisi, Piccinino e per ultimo Angelo Noce, il quale pur evidenziando le difficoltà nel portare avanti questa scelta non ha voluto abbandonarla, anzi a giudicare da quanto visto con il Potenza si può parlare di una vittoria all'insegna proprio della cilentanità. A parlare del momento di gloria della Gelbison è proprio il presidente che a differenza del tecnico Logarzo impegnato a fare il pompiere sui facili entusiasmi, il quale continua a parlare di traguardo salvezza ancora da conquistare, il numero uno del club rosso-blu dice invece apertamente che la Gelbison può puntare senza problemi ad essere nel gruppo delle migliori. Finora dice Noce, ho visto tutte le squadre senza apparire presuntuoso, dico che il miglior calcio lo hanno fatto vedere Sica e compagni, i quali grazie al lavoro certosino svolto da Logarzo, altro cilentano di Rofrano, hanno sempre giocato alla pari e molte occasioni solo per episodi e forse all'inizio per qualche leggerezza hanno lasciato punti preziosi, come nel caso di Andri e Taranto, dove si sono dovuti accontentare dei complimenti ma senza portare a casa punti. Noce si dice soddisfatto di aver preso in mano le sorti del club nella passata stagione ed è pronto a proseguire per dare continuità a questo progetto. Di certo il momento, dice, non è favorevole, però con oculatezza e parsimonia intento proseguire insieme ai miei collaboratori l'esperienza a Vallo della Lucania e dare un futuro meno incerto alla società, che rappresenta una vasta area del cilento. Per il DG Agostino Di Spirito l'arrivo di Noce ha contribuito a dare serenità e solidità al club e invita i tifosi a stare più vicino alla squadra. Dopo la trasferta a Cuda Putoleana c'è la sosta con il Manfredoni all'8 febbraio, mi attendo, il Morra gremito. I ragazzi lo meritano, dice Di Spirito, e anche la società per il lavoro che sta svolgendo.